Giovanni Rinaldi, venditore ambulante di Pesaro, nonché responsabile Anva Confesercenti, tre settimane alla fiera di San Nicola, una fiera di San Nicola che però per la vostra categoria parte con problematiche relative ai costi difficili da sostenere. Esatto, è una fiera molto molto costosa, tipo la mia bancarella che ha 8 metri per 4, quindi 32 metri quadri paga circa 540 euro, che è diviso tre giorni fa 180 euro al giorno, non esiste a Pesaro un negozio di 32 metri quadri che paga 180 euro di affitto al giorno, sono costi insostenibili, anche perché poi siamo in mezzo alla strada, non è che abbiamo un luogo chiuso, sono costi inaccettabili, però noi abbiamo protestato con Pesaro Parcheggi a quello che a vedere non gli interessa. Questa è una situazione che può portare a qualche stallo inoccupato o anche a ambulanti che preferiscono concentrarsi su altre fiere rispetto a quella pesarese? Sicuramente sì, ogni anno avremo sempre meno ambulanti perché i costi sono esagerati, c'è sempre l'incognita del tempo che fa parte del rischio del nostro lavoro, però comunque lo dobbiamo mettere nel rischio del lavoro e con questi costi nell'arco di qualche anno faranno come le fiere di Fanno e Senigallia che andranno a morire con pochi ambulanti presenti e tanti spuntisti. Per quanto riguarda il pagamento, poi dobbiamo anche dire che il pagamento deve essere effettuato 20 giorni prima ed è una cosa assurda che Pesaro Parcheggi ci chiede soldi 20 giorni prima, anche perché poi se due giorni prima o tre giorni prima mette tempo brutto, magari uno può anche decidere di non andare, visto che ha le decennali e comunque quello è il suo posto, però se non si paga entro 20 giorni c'è un ulteriore aggravo del 10%, è una cosa inaccettabile, però ripeto, Pesaro Parcheggi non gli interessa assolutamente le nostre proteste, abbiamo fatto proteste anche l'anno scorso, ci hanno detto che c'erano costi per il personale per controllare il Green Pass ed è venuta la metà della gente. Non è che se in questi 10 anni non hanno aumentato i costi, va bene, sono stati sempre cari, ma nell'ultimo anno dove sono aumentati i costi dell'attività, i costi per l'acquisto di materie prime, è inaccettabile che non ci vengano incontro neanche con una minima riduzione.